Cocco bello, cocco fresco! Bene, ciao a tutti! Benvenuti nella nostra cucina virtuale! La vedete così, un pochettino, come dire, strammata e un pochettino stralunata perché avevamo detto che dovevamo fare un altro video Si è vero, e invece va bene Oggi vi proponiamo una coccola al cocco Una coccolosa, la chiamiamo così? Si, è una ricetta buona per le teste di cocco Una coccolosa da slurpare Brava, per le teste di cocco è la ricetta giusta Se anche tu sei una testa di cocco, questa è la ricetta giusta Noi non siamo teste di cocco, ma ci piacciono le coccole e questo è un dolce al cucchiaio, fresco e delizioso Andiamo di là e vediamo come si fa Ed eccoci pronti per creare la nostra nuvola di cocco Cosa ci servirà per quella nostra coccolosa? Coccolosa, aspetta, aspetta, aspetta Un po' cocco e un po' golosa Non serve dell'acqua e un po' di pacchette No, ci serviranno Una confezione da 330 ml di latte di cocco preso al bio 100 g di farina di cocco Che è cosa ben diversa dal cocco macinato Quello un po' più grussolano Che ci servirà poi per la guarnizione e la copertura Quindi ce ne servirà un pochino Non so quantificarlo perché lo spolverizzerò di super 50 grammi, 20 grammi? No, forse 100 grammi 100 grammi di gocce di cioccolato Due confezioni di pavesini che non userò tutte ma con cui farò la base Una confezione di ricottina da 250 grammi E naturalmente della gelatina in polvere Io questa la trovo in tutte le Oshan Ogni bustina di queste potete sostituirla con una bustina di fogli di colla di pesce e pan degli angeli In generale come sostituirla? Leggete dietro quanta ne occorre per la quantità che state facendo Quindi io userò qui due bustine circa Cominciamo subito All'interno di una ciotola Dopo aver scegherato ben bene Verso il latte di cocco Quindi verso dentro la gelatina Questa è la bellezza che si scioglie a freddo Ne sto mettendo 16 grammi Quindi l'equivalente di due confezioni di colla di pesce Per chi non vuole essere derivati animali può usare la garagara E le proporzioni sono scritte sulla confezione Ok, adesso prendo un setaccio E passo la mia ricotta Tieni che ha A setaccio Perché? Perché così il dolce viene meno grumoso Sai che la ricotta ha questa consistenza un po' grumosa? Così viene tolta Aggiungo anche 3 cucchiai di zucchero di canna Mescolo il tutto ben bene E adesso verso un po' di 100 grammi di farina di cocco Che altro non è che cocco ridotto a farina E darà una consistenza un po' più pastosa al dolce Metto le gocce di cioccolato E se il dolce mi appare troppo secco Aggiungo con un po' di latte di cocco Ecco, fate ritornare umido il composto Quindi fate quindi reidratare la farina Possiamo dire tranquillamente che il latte di cocco dovrebbe essere 400 ml Anche 500 ml E adesso verso il contenuto in una terrina bagnata Sperando che poi sformi ragazzi Come di solito fanno i budini, no? Perché non ho carta cellofan Se invece voi avete del cellofan Rivestite la vostra pirofila di cellofan Appianate il fondo Prendo un altro po' di latte di cocco Lo verso direttamente qui dove ho miscelato tutti gli ingredienti E preparo il fondo che applico adesso Fatto soltanto di pavesini imbibiti di latte di cocco Ed ecco abbiamo finito Adesso in frigo per tre orette Dopodichè ci troviamo qua col cocco grattugiato per la guarnizione Un pavesino e un cocco sono buoni Benvenuti! Tenuta in frigorifero per più di tre ore Adesso se di vuole sformiamo la nostra cupolozza Io non avendo avuto la carta forno L'ho immersa qualche secondo in acqua calda La ciotolina La carta forno ce lo fanno Voi se ce l'avete mettetela Qua Ah Ah Olè Ragazzi è stato un parto difficilissimo Guardate che bello E' marmorizzata Zebrata Zebrata ecco E' un guscio E' un guscio E' un guscio E' un guscio Non vi preoccupate perché la fetta tiene Qua sono stata io Poco fiduciosa e me stessa E adesso piano piano spolverizziamo la tutta con il cocco Così nascondiamo anche qualche eventuale magagnetta della sformatura Ma voi ripeto se avete il cellophane non avrete nessun tipo di problemi nello sformarla Lei regge la forma E' soltanto che io proprio non ce l'avevo quindi era inutile Questo è un dolce adatto ai bambini ai grandi a quelli senza denti anche Soprattutto a quelli senza denti E' un dolce al cucchiaio molto fresco molto goloso e molto buono Quindi ora lasciatela in forno e lei lieviterà La doppierà giusto mi pare? No 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 Non la doppia Sulla sommità proprio appena sopra Wow Qualche goccina di cioccolato Così stuzzica la fantasia anche dei più piccoli Vero? Che ti stuzzica la fantasia così? E' affano c'ha l'acquolina con le gocciole Io le mangio perché mi piacciono Così così basta Bravissima bravissima Vuoi di tagliare? Si E' un peccato tagliarla Perché la devi tagliarla? E allora adesso facciamo qualche foto e dopo la fetta Taglia 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 Ed ecco qua la nostra fetta Scusate il piatto sporco ma l'ho appena tagliata Certo perché sul piatto nero si notano tutti i difetti Si notano tutti i difetti Ma io volevo farvi vedere la fetta Guarda guarda fai vedere la fetta Fai vedere la fetta ai nostri amici Guardate Aspetta Guardate che bella questa fetta Prendiamo la forchettina A chi lo diamo la prima forchettata? Allora vediamo come si chiama Alla bambina Alla bambina No no prima al papino Che se è brutta almeno al bambino gliela risparmiamo Silenzio Mmm Com'è? Mmm Si sente il cocco? Questo lo assaggio io Si noi tutti con la stessa forchetta Siamo famiglia ragazzi Si sente il cocco? Lo sento Le gotole e il cocco Vero? Si tutte e due Però tutto molto fresco Tutto molto fresco E quindi Provate questa torta al cocco E dici cosa ne pensate Così ha una dolcezza media Se invece la volete super dolce Aggiungete un altro paio di cucchiai rasi di zucchero Considerando che il cocco alla lunga potrebbe nauseare Io vi consiglio di farla un po' più bassa di dolcezza Però Se vi piacciono i dolci super dolci Due cucchiai di zucchero in più Non ci staranno male Sino due cucchiai in più potete metterli Bravissimi Mi lasciamo alle foto Ciao 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 Benissimo Avete preparato questa simpatica ricetta Bene Ora non rompete più le noci di cocco No E andatela Insomma Andatela a mangiare A degustare Fatela provare ai vostri amici E soprattutto al nonno Perché al nonno? Al nonno Non lo so Sembra un dolce molto morbido per il nonno Che ha problemi Sto notando che i dolci al cucchiaio A parte le cose che dice lui I dolci al cucchiaio li gradite molto E quindi vi sto proponendo una serie di dolci al cucchiaio Di cui io sono ghiotta E che non vi ho mai proposto Perché pensavo non vi piacessero Invece sono i video che stanno andando di più Quindi grazie ragazzi Sono tutte torte dolci al cucchiaio Che io faccio abitualmente in casa Questa coccolosa da slurpare La chiamiamo così? No, non mi piace questo nome E' un po' fossa Questa coccolosa diciamo che è veramente golosa E' buona E' molto fresca E non è neanche tanto pesante Se ci pensate agli ingredienti che ci sono dentro Quindi godetevi Una bella fetta In terrazzo Magari fronte mare E pensateci con tanto amore Ma come sono poetica Si, brava E quindi un saluto a tutte le teste di cocco E noi ci vediamo sempre qui Vi vogliamo bene Tu sei una testa di cocco Ciao Ciao